A due mesi dal Natale ci si avvicina ai grandi appuntamenti di fine anno, Assessore Cuzzi, però anche per i prossimi fine settimana sono in programma in calendario diversi appuntamenti a Pescara. Sì, diciamo che abbiamo programmato una serie di manifestazioni, di eventi e di appuntamenti con la visione di rivitalizzare il commercio nella città, di sostenere questo comparto così importante. Parte dall'idea di centro commerciale naturale che nascerà a breve, non solo in centro, stiamo facendo degli esperimenti anche nei luoghi dove spesso non sono state organizzate manifestazioni. Partiremo il 29 ottobre, domenica, con la festa del commercio in Via D'Avalos, ci sarà lo spettacolo di Vincenzo Liviere alle ore 18, i mercatini, intrattenimento per i bambini, poi ci sarà la classica manifestazione del cioccolato, il festival del cioccolato sul Corso Umberto, fino ad arrivare alle manifestazioni di Halloween con Pescara Urban Shopping, ossia una visione rivisitata invernale del Notte Bianca dello Shopping che partirà dalle 16 del pomeriggio del 31 e arriverà fino a sera con tante postazioni musicali nelle vie del centro della città, tanto intrattenimento ed eventi appunto a tema, in accordo con tutte le associazioni di categorie e con i commercianti. Quindi non solo centro ma anche periferia? Sicuramente, questo diciamo che è uno slogan importante, noi faremo delle manifestazioni appunto a partire dalla fine di questo mese che dureranno fino a gennaio inoltrato e accompagneremo sia con delle manifestazioni in quello che è il primo centro commerciale naturale della città ma faremo anche delle manifestazioni che interesseranno altre vie. Questa volta via Davalo spasseremo su via Gabriele D'Annunzio e cercheremo di toccare tutte le arterie principali del commercio cittadino.